Siamo Niccolò, Fabi, Daniele Silvestri e pare ci sia anche Max Garzè al pianoforte. Sto suonando il pianoforte, vi faccio, vi accompagno mentre voi annunciate quello che sta accadendo qua oggi. Stiamo per fare una canzone? Esattamente, a Barcellona per le Furious Sessions. Suoniamo Alzo le mani, la prima canzone che abbiamo scritto noi tre insieme, ci conosciamo da vent'anni ma l'abbiamo scritta adesso e ci piace parecchio. A lui non suonerà il pianoforte, fortunatamente. Però poi ne suoniamo anche un'altra. Cagliate, grazie. Il rumore della pioggia nel pomeriggio, le cicale a luglio e non capremo. Il suono del traghetto che entra in porto, l'ha frenata prima del botto. La sirena dell'ambulanza in avvicinamento, quella che si sente in guerra guardando in alto. L'urlo della folla in uno stadio, il rumore della vita. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore, o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, è una battaglia persa. Il telefono che squilla quando lo aspetta, le dita di mio padre sulla sua olivetta. Il cannone del gianicolo di mezzogiorno, la serratura al tuo ritorno. La campanella che suona il tram quando riparte, quella che in un attimo suota la classe. Il respiro di un bambino lieve, il silenzio della neve. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore, o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, è una battaglia persa. Alzo le mani. E poi capita che un suono sbatta addosso come un vento di cristallo, che si aggrappa una follia prigioniero dello stallo come un mare. E' come l'albero d'autunno lascia foglie sull'asfalto da ammucchiarsi contro i muri. Che si arrende senza sonno, senza storie, senza volte, quella sfilza di respiri. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore, o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, è una battaglia persa. Alzo le mani. E... Arrivederci. E li abbassiamo. A presto.